Impianto solare termico Definizione Gli impianti solari termici permettono di catturare l'energia solare, immagazzinarla e usarla ad esempio per riscaldare l'acqua per usi igienico-sanitari, ACS. Fonte rinnovabile, si rigenera a una velocità più elevata rispetto a quella con cui viene consumata. Trasformazioni energetiche 1 Energia solare Energia termica 1 Energia solare Il Sole è una fonte di energia inesauribile. È grazie alla radiazione solare che le piante completano la fotosintesi clorofilliana consentendo la vita sulla Terra. L'irraggiamento solare è anche l'origine dei venti, delle maree e dei combustibili fossili, il Sole è alla base di quasi tutte le forme di energia sul nostro pianeta. La quantità di energia radiante che arriva sulla Terra dal Sole, per unità di tempo e superficie è pari a 1,4 kW al metro quadrato. Le stagioni Poiché l'asse terrestre è inclinato di 23,5 gradi rispetto alla perpendicolare al piano dell'orbita, la Terra rivolge verso il Sole uno dei due poli, così gli emisferi ricevono una quantità di calore che varia ciclicamente nel corso dell'anno. La differente quantità di radiazione solare ricevuta dal pianeta, dipende sia dalla durata del giorno, sia dall'inclinazione dei raggi solari, e determina l'alternanza delle stagioni. Ricorda, durante l'estate boreale la Terra si trova quasi alla massima distanza dal Sole, a Felio, che viene raggiunta a luglio. La distanza minima dal Sole, per Ielio, si raggiunge a gennaio. 2 Energia termica Il collettore solare cattura la radiazione del Sole per trasformarla in calore. I pannelli sono generalmente montati sulle coperture degli edifici. A seconda delle caratteristiche tecniche si distinguono Collettori solari piani vetrati Collettori a tubi sottovuoto Collettori piani scoperti Collettore solare piano vetrato È la tipologia più diffusa. I componenti fondamentali sono Una superficie trasparente di vetro temperato Una serpentina di tubi in rame fissati su una piastra assorbente di colore scuro Uno strato isolante costituito da lana di roccia o poliuretano Un sottofondo in lamiera zincata Un telaio in alluminio Collettore solare piano vetrato Il principio di funzionamento del pannello solare termico è simile a quello che si verifica in una serra Dei raggi solari incidenti la superficie vetrata Solo una piccola parte viene riflessa Quella restante passa attraverso il vetro e viene assorbita da una piastra captante di colore nero Assorbitore Quest'ultima, scaldandosi, rimette energia sotto forma di radiazione infrarossa Rispetto alla quale il vetro si comporta come se fosse opaco Trattenendola così al suo interno Effetto serra In questo modo la temperatura del fluido vettore primario tende a salire Il liquido si sposta nella serpentina verso il serbatoio, secondo due tipi di circolazione, forzata o naturale Guarda lo schema dell'impianto a circolazione forzata Pannello solare Circolatore Acqua proveniente dalla cuedotto Serbatoio di accumulo Acqua calda per usi sanitari Caldaia Impianto a circolazione forzata Nel circuito scorre acqua o un fluido termovettore antigelo, glicole propilenico, che è spinto da un circolatore azionato da una centralina elettronica Mediante apposite sonde, la centralina è in grado di rilevare la temperatura dell'acqua e di azionare il circolatore Quando la temperatura all'interno del collettore è superiore alla temperatura impostata nel serbatoio di accumulo Il fluido trasferisce il calore dai pannelli solari all'acqua del serbatoio per mezzo di uno scambiatore di calore, serpentina Nota, nel serbatoio si trovano due circuiti idraulici separati Quello primario del pannello, in cui circola il liquido riscaldato dal sole, la miscela di acqua con antigelo E quello secondario in cui circola acqua sanitaria, e che è collegato all'impianto idraulico di casa Il fluido termovettore e l'acqua calda sanitaria non si mescolano mai Se l'impianto solare non è in grado di portare l'acqua alla temperatura desiderata, circa 40 gradi centigradi Il calore fornito dalla caldaia, il sistema ausiliario, garantisce la necessaria integrazione Nel serbatoio di accumulo la serpentina posizionata in alto è collegata alla caldaia Impianto a circolazione naturale L'impianto solare termico a circolazione naturale è costituito da un serbatoio di accumulo dell'acqua posto al di sopra del pannello solare Una volta riscaldato dall'energia del sole, il fluido termovettore contenuto nei tubi diminuisce la propria densità e comincia a salire verso l'alto Raggiunge così il serbatoio dove è contenuta l'acqua e la riscalda Vantaggi, costi contenuti, dimensioni compatte e facilità di installazione Produzione annuale di energia e fabbisogno di ACS Nel grafico la linea gialla indica il calore prodotto dai pannelli nei mesi dell'anno, la linea verde esprime il fabbisogno di acqua calda sanitaria In alcuni mesi, ad esempio gennaio, febbraio, dicembre eccetera, il fabbisogno supera la quantità di calore prodotta dai pannelli Dunque è necessario integrare l'energia mancante con una caldaia Quando invece la quantità di calore prodotta dai pannelli eccede la richiesta dell'utenza, purtroppo va sprecata Infatti nei periodi dell'anno di forte insolazione, l'impianto solare può captare più energia di quella che serve all'utenza, causando il fenomeno della stagnazione I danni possono essere temporanei oppure in grado di compromettere successivamente il funzionamento dell'impianto Gli impianti vengono generalmente dimensionati per coprire il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria Produzione giornaliera di energia Purtroppo non è possibile immagazzinare il calore estivo per averlo a disposizione in inverno Tutto il calore estivo in eccesso viene perduto e il surriscaldamento, stagnazione può causare danni irreversibili ai pannelli e all'impianto Invece durante il giorno, l'eccesso di energia termica prodotta è accumulato nel serbatoio e reso disponibile per l'utenza Nel grafico la linea gialla indica il calore prodotto dai pannelli durante il giorno La linea verde esprime il fabbisogno di acqua calda sanitaria Stagnazione Alcune soluzioni per prevenire la stagnazione Usare il surplus di energia per scaldare l'acqua della piscina, per chi può, o coprire i pannelli per limitare la produzione di calore in estate Conto economico Costi Costo per impianto a circolazione naturale per una famiglia di 4 persone, 3500 euro Ricavi Risparmio di 350 euro all'anno circa per acqua calda sanitaria, nel caso sia prodotta con un boiler a gas Il tempo di ritorno economico, payback è di circa 10 anni Non sono stati presi in considerazione costi di manutenzione ordinaria e straordinaria Vantaggi del solare termico È una fonte di energia rinnovabile, gratuita e sempre disponibile Consente di ottemperare a normative sulle rinnovabili, costruzione nuovi edifici eccetera Zero emissioni di CO2 Riduzione del consumo di combustibili fossili Risparmio sulla bolletta del gas ed elettricità Possibilità di usufruire di eventuali detrazioni e agevolazioni fiscali Svantaggi Occorre la presenza del sole I sistemi con acqua glicolata, antigelo necessitano di manutenzione e soffrono di problemi di surriscaldamento nei mesi estivi, quando le case sono poco utilizzate per via delle ferie o del basso consumo d'acqua calda Forniscono molta acqua calda in estate quando ne serve meno Producono poca acqua calda in inverno quando la richiesta è maggiore Non sono sfruttabili per il riscaldamento delle abitazioni Ripassa la mappa del capitolo